Musica Potrebbe arrivare direttamente dall'India il primo contraccettivo per uomini. Si tratta di un prodotto iniettabile che ha completato in questi giorni l'ultima fase dei trials clinici. La notizia è stata anticipata da alcuni ricercatori coinvolti nel progetto, secondo i quali il farmaco avrebbe un'efficacia di almeno 13 anni. La terza fase di sperimentazione è stata condotta su 303 persone, con risultati positivi che hanno superato il 97% e senza effetti collaterali. Uno dei simboli della cucina italiana si sta avvicinando all'ottenimento del riconoscimento definitivo da parte dell'UE. La Commissione europea ha infatti pubblicato sulla gazzetta ufficiale la domanda di registrazione della matriciana tradizionale, accompagnata da indicazioni molto precise che ne indicano gli ingredienti e le proporzioni. Ora, chiunque voglia sollevare obiezioni avrà tre mesi di tempo, ma superata quella soglia e in assenza di oppositori, l'eccellenza tricolore potrà essere scritta nel registro delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite, di cui il bel paese è leader in Europa. Tale riconoscimento ufficiale sarà garanzia contro imitazioni e falsi. Nel 2018 in Italia sono stati celebrati 195.778 matrimoni, circa 4.500 in più rispetto all'anno precedente, un incremento corrispondente al 2,3%. Di questo totale, nel 17,3% dei casi, almeno uno degli sposi era straniero. Si registra anche la tendenza a sposarsi sempre più tardi. Al primo matrimonio, gli uomini hanno in media 33,7 anni e le spose 31,5. Per quanto riguarda la cerimonia, metà dei matrimoni italiani si svolge col rito civile e di questi, il 63,9% si svolge al nord. In totale, sono state 2.808 le unioni di coppie dello stesso sesso e di queste, il 64,2% erano coppie di uomini. Dopo Waze e Coyote, chi più ne ha più ne metta, ora a segnalare autovelox e posti di blocco, ci pensa anche Whatsapp. No, la famosa app di messaggistica non ha introdotto nessuna nuova funzione in materia, ma veniva usata da alcune persone, quasi tutti i cittadini di Canicati, per segnalarsi a vicenda la presenza di dispositivi per il controllo della velocità o di una pattuglia. Gli indagati da parte della procura di Agrigento sono oltre 60, tutti iscritti al gruppo Whatsapp, uomini in mezzo a via. Le informazioni che venivano scambiate erano passate anche a terze persone. L'indagine è scaturita dal ritrovamento casuale del telefono di uno degli iscritti nella lista degli indagati, anche autisti di ambulanze, mezzi di soccorso e camionisti. Grazie a tutti.